La Puglia, oltre ad essere una delle regioni italiane maggiormente apprezzate e frequentate dal turismo nazionale ed internazionale, è conosciuta in tutto il mondo grazie agli innumerevoli prodotti della sua terra e agli inconfondibili piatti legati alla sua tradizione. La cucina pugliese riesce sempre ad esaltare le materie prime sia di terra che di mare, senza mai alterare i sapori degli ingredienti di base che la compongono. Una grande attenzione viene anche riservata ai vini di questa regione. Un tempo relegati al ruolo secondario di prodotti da taglio, oggi vivono una nuova e gratificante stagione che li ha portati ad essere apprezzatissimi anche oltre i confini regionali e nazionali. L'uva coltivata in Puglia è anche in gran parte destinata al consumo domestico. Prossima all'ottenimento del riconoscimento di prodotto ad indicazione geografica protetta da parte dell'Unione Europea, l'uva di Puglia è una delle eccellenze delle quali la regione può maggiormente fare vanto. La Puglia infatti produce oltre il 70% di uva da tavola in Italia, nazione che a sua volta detiene il primato della produzione mondiale. Le ragioni di tanto successo sono note. La regione dei Trulli e del mare dalle mille sfumature, su quale si appacciano spiagge dorate e fortezze inespugnabili, racchiude al suo interno una terra fertile e produttiva che la mano dell'uomo ha ricoperto di vigneti ed uliveti. Gli inconfondibili paesaggi dell'entroterra pugliese fanno capire quanto queste culture siano importanti per l'economia della regione, i cui prodotti agroalimentari sono fra i più conosciuti ed apprezzati di tutta Italia. Rossa o nera e di qualsiasi varietà, l'uva pugliese campeggia da sempre sulle tavole, simboleggiando prosperità ed abbondanza. I suoi grossi acini, succosi e croccanti, sono una insostituibile prelibatezza sia consumati al naturale che utilizzati come ingredienti in cucina per arricchire pietanze e dessert. Grazie.